Un tempo, il mondo umano e quello dei demoni erano collegati. Gli umani che vagavano in quest'ultimo diventavano vittime degli yokari. In dietro! Su, cominciamo! Libera! Yusuke Uramashi. Il barco si espande troppo velocemente. È chiaro che qualcosa lo sta forzando. È il tuo primo incarico da detective del mondo degli spiriti. Fornerà in vita, per cui immagino che accetterai. Il piccolo Enma ha già trovato il mentore che fa al caso tuo? Fatti sotto. È il tuo corpo che deve sentirlo. Che strega. Devi essere forte, Yusuke, per proteggere tutti coloro che ami. Ciao, yei! Kurama. Ciao a te, Yusuke. Ho il terribile presentimento che ci stiano attirando in una trampola. Non era uno yokai quello che senza scrupoli ha incendiato la città? Benvenga, allora. Possiamo dare il via al vero divertimento. Ormai non si può tornare indietro. A lui ci penso io. Iniziamo con un po' di riscaldamento. Lascio il destino del mondo umano nelle vostre mani. La mia è forza allo stato puro. Noi due siamo diversi. Quella che hai tu non è vera forza. Non hai più bisogno di avere amici. Yusuke... Non ci sono strane! Non ci sono strane! Aaaaaah! Aaaaaaah!